La stessa cosa, se andiamo a osservare, si trova tutti i salici nella penisola esterna delle mura, ce ne sono e lì potete andare a vedere che tutti pendono verso l'aereo. Salici a Treviso, seconda puntata. Dopo quello schiantato e quello tagliato dei buranelli, ora a rischio ci sono quelli della penisola davanti al ponte De Prie, ribattezzata da Gentilini, l'isola del Paradiso. Poco più anziani rispetto ai defunti davanti a Casugana, secondo l'ex giardiniere del Comune rischiano di finire in acqua se più presto non si provvederà ad alleggerire le chiome. Io ho fatto l'ultima potatura, posso dire che sono andato via nel 2012, credo qualche anno prima. È chiaro che il salice è una pianta che sviluppa velocemente, lì le condizioni dell'acqua è una pianta che in acqua sta perfetta, quindi bisognerebbe intervenire riducendo la chioma. Ripeto, non capitozzando ma sfoltendo, alleggerendo pesi, irrobustendo così il fusto in modo che la pianta si riequilibria e si rigenera. Favaretto ricorda come l'intervento quella volta sia stato particolarmente complicato perché effettuato in barca e come, per evitare spese e interventi importanti, la potatura di questi alberi venisse eseguita, seppur in maniera lieve, quasi ogni anno. L'occhio dell'aspetto, seppur in pensione, mette quindi sull'avviso sindaco e assessore, che poi non si dica che lo schianto dei salici, non altro degli scorci suggestivi di Treviso, sia solo una fatalità.